pesci carissimi c'è qualche piccola tempestina zodiacale non mi riferisco la pastina da brodo proprio la tempesta nel senso meteorologico perché con questo marte che da venerdì entra nel vostro segno con giovo un po stortignacolo e mercurio che vi guarda come se gli avesse rigato la macchina le cose hanno bisogno di tempo per maturare voi dovete forse tirare fuori un po di pazienza e soprattutto venerdì sabato e domenica quando la luna transiterà nel vostro segno che vi darà fascino vi darà intuizioni utili però potrebbe anche rendervi un po troppo preda dell'emotività del momento quindi bisogna stare tranquilli perché comunque come vi ho già detto vi ripeto e vi ripeterò avete al vostro fianco pianeti di primordine come saturno come urano come nettuno come plutone che vi fanno realizzare le cose grosse della vita è solo in superficie che sembra che tutto vada storto però ritornate a formicare come a 18 anni e questa insomma è una bella notizia che è stata un'ottima a